allora quando voi aprite da vinci create un nuovo progetto potete anche creare una cartella chiaramente inserendo un po di cosa adesso prendiamo un nuovo progetto abbiamo la versione gratuita di da vinci la versione gratuita di da vinci non è una versione farlocca è una versione completa super professionale la differenza con la versione a pagamento che costa 280 euro quindi veramente poco pochissimo per un'applicazione di questa portata però offre degli strumenti che sono davvero super professionali cioè per chi produce montafilme fa colore ad altissimo livello cioè lavora per la cinematografia crea serie tv per netflix eccetera quindi sono cose che a noi non interessa e non interessa neanche a tutti i professionisti di fascia alta ma che non lavorano in questo modo o che lavorano in team per esempio e quindi ha la possibilità di condividere in tempo reale il montaggio eccetera 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 quindi questa che è la migliore applicazione esistente per l'editing video in tutti i campi e quella applicazione che viene utilizzata anche a hollywood per creare film assieme a david sono due o tre le grandi piattaforme una è questa e può sembrare diciamo complicato perché l'interfaccia è molto ricca si possono fare tantissime cose veramente incredibili ma in realtà seguendo delle semplici operazioni da vinci è una piattaforma alla portata di tutti qui sotto quando apriamo la piattaforma qui abbiamo cinque pagine si chiamano pagine queste la prima pagina quella dei media dove raccogliamo fotografie i clip che abbiamo registrato audio eccetera eccetera questa pagina una pagina di montaggio semplificato che è la stessa identica che si trova nella versione da vinci per ipad esiste una versione da vinci per ipad però non è funzionale al nostro discorso perché per ipad usiamo altro usiamo garage band usiamo altre cose e questa è la pagina di edit che è quella che usiamo noi poi abbiamo una pagina invece che destinata al montaggio di effetti speciali avete astronavi cose varie così non ci interessa questa è la pagina invece di color color correction è estremamente interessante ma fuori dai nostri argomenti e poi abbiamo con la nota musicale la pagina di far light è quella che ci interessa invece per la registrazione e poi abbiamo la pagina di delivery cioè qui vi viene consegnata la pizza sul vostro computer dunque utilizzeremo tre pagine la pagina di edit la pagina di far light e la pagina di delivery per consegnare la registrazione stiamo parlando di registrazione audio quindi non ci interessa il video non ne faremo neanche un accenno in questo caso cerchiamo la pagina di edit e che cosa abbiamo qui qui abbiamo lo spazio all'interno del quale deve essere collegata una timeline cioè la linea del tempo sulla quale avviene il montaggio e adesso non possiamo fare niente se non abbiamo una timeline non abbiamo neanche la possibilità di registrare vado nella pagina di far light ma se faccio qui clic su record non succede niente perché senza una timeline cioè senza il contenitore del montaggio non posso creare nulla quindi la prima cosa che devo fare è creare una timeline allora qui da questa finestra che la finestra del master faccio clic col tasto destro del mouse timeline create new timeline molto semplice create new timeline ok allora timeline mi chiede il titolo chiaramente sarà episodio 1 il resto lasciamo tutto così non ci interessa episodio 1 guardate che cosa succede succede che ha inserito una traccia video e una traccia audio la traccia video non ci interessa portiamo su la traccia audio si cambiamo il nome lo chiamiamo alberto oppure voi risolvere voi la chiamate come volete col vostro nome insomma di chi deve registrare siamo pronti per partire ovviamente da vinci può avere traccia audio infinite audio video tutte quelle che volete però per il momento a noi ne basta una quindi passiamo alla registrazione nella pagina di far light bene dobbiamo chiederci una cosa però dove questa registrazione verrà collocata cioè noi siamo al computer abbiamo un dispositivo eh suddiviso in cartelle c'è un hard disk eccetera eccetera dove caspita sistema la registrazione bene dobbiamo cercare delle impostazioni per questo cioè le impostazioni della timeline del nostro progetto di questo progetto qua che abbiamo creato nel quale possono esserci tante timeline perché avrò l'episodio 1 episodio 2 episodio 3 eccetera eccetera no ogni volta creo che registro un episodio duplicherò la timeline precedente così oggi ho già sistemato tutto e alla fine però dove registra cioè dove collocherà i file della registrazione allora guardate qui in basso sulla destra abbiamo la solita rotellina delle impostazioni apriamo la rotellina delle impostazioni e scegliamo la sezione capture and playback capture and playback e nella schermata di capture gli diciamo che cosa cattura cattura video audio va bene il video formato quick time ok non ci interessa niente ci interessa shave clip to quindi dove lo salvi e beh browse cerchiamo lo salvi che ne so dentro il desktop crea una cartella che si chiama corso 26 audio registrazione perfetto lui registerà tutto lì audio video eccetera metterà tutto qua da dentro open cioè apri questa cartella che appena creato e basta siamo a posto shave chiaro no fin qui mi interrompetti mi essi ci sono delle questioni poi torniamo alla pagina di farlight adesso dobbiamo vedere come funziona qua come funziona il mixer perché qui abbiamo un mixer vedete lo attivo da qua attivo mixer disattivo cioè nel senso mister è sempre attivo lo mostro non lo mostro questo mixer è composto da due tracce una si chiama alberto l'ho nominata io e l'altra si chiama bass che cos'è bass beh bass è la traccia di uscita perché perché io potrei avere la traccia alberto la traccia rossella la traccia maria la traccia carlo e tutte quante poi confluire con i loro volumi differenti perché mario c'è un vocione che spacca quindi abbasso il volume maria c'è una voce di un altro tipo e quindi il volume eccetera eccetera ma alla fine tutti andranno nella traccia bassa e il volume generale di uscita sarà regolato dalla traccia bassa normalmente lo lasciamo qui una buona registrazione non va a toccare di solito queste queste cose siamo nella traccia alberto che cosa devo fare devo dirgli avete visto tutta l'attrezzatura che c'è qua quindi gli devo dire da quale cavolo di microfono registrerai la traccia alberto giusto perché ogni microfono avrà la sua traccia quindi traccia alberto scelgo input è semplice vedete c'è l'input quindi scelgo input e input di dirò non no input ma sì input quindi input che cosa si apre questa finestra siccome da vince abbastanza intelligente lui ha capito che registro dalla scheda volte due sette sei quindi la seleziono seleziono la scheda se avessi più schede collegate c'era per libero tutte qui chiaramente ma per il momento solo la scheda volte che vi ho fatto vedere la traccia alberto è già selezionata per forza perché quella da cui sto cercando di insegnarvi da quale strumento registreremo giusto perfetto quindi patch qui in basso patch unisce collega le due tracce sono collegate siamo a posto adesso abbiamo la traccia alberto abbiamo l'input che è la mia scheda per voi può essere microfono interno del computer qualsiasi altra cosa siamo pronti per la registrazione che cosa dobbiamo dire dobbiamo dire alla traccia alberto di stare pronta a registrare quindi attiviamo il tasto r questo è solo una protezione è solo una protezione per impedire che parta accidentemente schiacciando qui una registrazione magari cancellando qualcosa che si è registrato sotto eccetera cioè si determinano anche quali sono le tracce attive e quali no e poi si fa partire la registrazione fin qui tutto chiaro perché adesso io non so se voi sentirete proprio la registrazione io adesso avvio la registrazione quindi cosa farò avvio il tasto r e poi il pulsante di rec che è questo registerò qualsiasi cosa così per dieci secondi poi interrompo pronti avvio armo la traccia si che dice così armare la traccia r pronti perfetto e adesso via con la registrazione e benvenuti nel podcast asterisco 26 podcast di scuola futura che parla di no questo non è asterisco 26 mi sono sbagliato è asterisco anzi neanche asterisco e hashtag hashtag 56 il il corso di scuola futura dedicato al podcasting e siamo proprio qui per fare podcast stop fine registrazione tolgo disattivo la traccia in quanto diciamo predisposta alla registrazione ascolto tasto play sì magari sono indietro perfetto voi sentite questo chi ha le cuffie sentirà questa registrazione da un orecchio solo giusto o no non si sente la registrazione ah vabbè non si sente la registrazione sì lo immaginavo perché devo fare poi collegamenti apposto se no zoom non gestisce tutto quanto però ho fatto la registrazione adesso cosa facciamo due cose subito due cose guardate tasto destro del mouse prendiamo cioè andiamo sulla traccia tasto destro del mouse e cerchiamo clip attribute clip attribute lui ha registrato in stereo però io in realtà qui ho sono andato in mono quindi non c'ho il canale 2 e anche per voi sarà la stessa cosa quindi che cosa gli dobbiamo dire gli dobbiamo dire che il canale 1 siccome il canale 2 non è stato registrato niente sul canale 1 il canale 1 lo duplica e ne manda uno a sinistra uno a destra e così diventa stereo tanto lo stereo è uguale non è che c'è una differenza per quanto non sia mica a registrare una band con microfoni posizionati a destra e a sinistra eccetera chiara questa operazione ve la ripeto quindi tasto destro del mouse clip attribute e scegliete ambel channel 1 per tutti e due i canali quindi left right quindi adesso la registrazione è stereo e la senti e la sentite bene in come si chiama proprio al centro del cervello seconda operazione da fare è un po' diciamo per tecnici perché possiamo anche fermarci qua ma invece a noi interessa perché si chiama normalize audio level sempre tasto destro del mouse del mouse normalize audio level che cosa fa questa operazione questa funzione questa funzione normalizza i picchi i livelli non è un compressore quindi non comprime il suono le parti più basse e più alte solo stabilisce un limite perché può dare a sé che io magari abbia detto perché siamo è stato eccessivo rispetto al resto distorge lui normalizza questa cosa qua e lo portiamo a meno 6 dbf o anche meno 9 dbf cioè stiamo sotto lo zero parecchio funziona dal contrario noi non dobbiamo alzare i volumi poi dobbiamo abbassare per renderli compatibili con tutti i dispositivi di ascolto poi una scala logaritma quindi in realtà non funziona in modo lineare cioè meno 6 non corrisponde a 6 tacche effettive meno 9 non sono 9 tacche effettive meno 12 non è così distante come meno 6 per dire quindi normalize quindi ha portato ottimo poi controlliamo qua nel mixer che adesso abbiamo solo due tracce ma che Alberto e il basse non vadano in rosso quindi occhio al mixer occhio al mixer e avviamo la rigida come si chiama il play perfetto abbasso vedete ho abbassato ho abbassato fino a che può comparire qualche tacca gialla ma mai rossa andate sul sicuro anche se vi sembra che sia basso non importa l'ascoltatore alza il volume dal suo dispositivo ma è così che si regola diciamo e poi bassa anche controllate che non sia mai in rosso forse possiamo alzare un po' il bass ecco perfetto basta fine abbiamo fatto la nostra registrazione poi se volessimo torniamo alla pagina di edit torniamo alla pagina e qui lui ha segnato l'in e l'out ma noi non non interessa li togliamo in e out li togliamo così mark dal da dalla barra dei menu mark clear in and out lui li ha segnati perché ha un clip e abbiamo registrato solo questa traccia quindi abbiamo solo registrato questo clip scusate posto su questa traccia basta sì ma posto se devo fare dei tagli vi insegno rapidamente due cose dalla tastiera premete il tasto B e avete blade una lametta una lametta che taglia dove volete voi poi da B passate ad A AROV quindi vedete che è diventata una freccia e tagliate semplicemente delete col tasto della tastiera spostate fate tutto quello che volete poi ci sono le maniglie come al solito no? potete tagliare anche così i volumi non li regolate mai in questo modo e non li regolate mai neanche in quest'altro modo qua a destra li regolate sempre tramite mixer normalize e mixer basta non fate altre operazioni e qui abbiamo registrato basta fine tutto qua poi ci sono delle operazioni da fare in post produzione interessanti usare l'equalizzatore il compressore eccetera che vi spiego la prossima volta come facciamo per il nostro file beh andiamo da delivery qui facciamo una telefonata pronto ci manda il file no file name prova corso 56 browse dove lo lo registro perché è diverso perché questo è il diciamo il è il file finale è il prodotto finale quindi gli dico io dove registrarlo ma lo inserisco nella stessa cartella registralo qua qui dobbiamo fare attenzione perché a noi interessa l'audio non ci interessa avere un film di questo di quello che abbiamo registrato quindi qui in questa scheda video lo disattiviamo export video non ci interessa ci interessa l'audio audio in che formato mp3 lo sappiamo già non quicktime mp3 lasciate tutto così è a posto stereo eccetera poi qui sotto c'è il pulsante add to render queue cioè devi spostare il file perché qui queste sono le impostazioni ma adesso lo porti di là di là per realizzare rendering quindi add to render queue e basta ne potrei avere tanti potrei aver registrato 6 episodi li porto tutti qui e poi vi render in un colpo solo qui abbiamo invece una sola registrazione quindi render all e lui inizierà il rendering e basta l'ho già fatto adesso potete sentire la registrazione come e benvenuti nel podcast asterisco 26 il podcast di scuola futura che parla di no questo non è asterisco 26 mi sono sbagliato è asterisco anzi è anche asterisco è hashtag hashtag 56 il futuro dedicato al podcast e siamo proprio qui si e voilà questa registrazione è buona non ha bisogno neanche di essere qualizzata così perché perché siamo partiti con un buon microfono una buona scheda la qualità è buona possiamo fare dei piccoli aggiustamenti settimana prossima poi lo facciamo vi mostrerò alcune cosette semplici perché Da Vinci contiene e ve lo mostro da qui Da Vinci contiene una vera e propria stazione di effetti di vario genere estremamente validi tutti i tipi più anche un compressore sulla traccia diretto più a un sistema di equalizzazione diretto più altri equalizzatori anche un equalizzatore a 31 bande cioè veramente è una cosa straordinaria però Vinci ha utilizzato quelle due cosette che possano migliorare la registrazione in casi di difficoltà è un'esercizio è un'esercizio